Ora andiamo a Pontedera, sono al quarto giorno di protesta ai precari della Piaggio che sono saliti sul tetto di un palazzo che domina l'area industriale. Chiedono di riavere il loro posto in fabbrica, Roberto Vigiani. Ci hanno torto la dignità e noi la cerchiamo su questo tetto. Cerchiamo quella dignità che l'azienda ci ha torto non chiamandoci più, non facendoci lavorare da più di un anno, con tutti i problemi che abbiamo a casa. Da quattro giorni sul tetto del Palazzo Blu che domina l'ingresso merci dello stabilimento Piaggio sono precari di lungo corso, operai che in azienda hanno lavorato per 15 anni con contratti interinali sulla catena di montaggio. Poi la mancata stabilizzazione e la perdita di un posto sicuro che da queste parti rappresenta un bene prezioso. Noi abbiamo anche rifiutato dei lavori perché se tu abbandonavi un anno, saltavi, perdevi anche la priorità. Sono una quarantina e da giovedì si alternano sul tetto della palazzina che si nota già quando sulla FIPI lì si invocca l'uscita a Pontedera-Ponzacco. Il maltempo ha distrutto il gazebo utilizzato per trascorrere la notte. Adesso l'unico riparo è il pianerottoro dell'ultimo piano. Oggi c'è più armonia e domeniche si trascorre la giornata in compagna dei familiari. Il presidio andrà avanti ad oltranza H24 per richiamare l'attenzione delle istituzioni e aprire un dialogo con l'azienda. Ne vogliamo il reintegro. In più dovremo parlare per quanto riguarda la parte occupazionale sul territorio di Pontedera per quanto riguarda la piaggio, di una lista di anzianità per tutelare tutti i precari che stanno entrando in piaggio, che dovrebbero quindi avere un futuro e per il momento non ce l'hanno.